E quindi vediamo un attimo quali potrebbero essere questi vantaggi che si avrebbero con una tecnologia di questo genere. Il primo mi viene in mente per esempio che non ci siano sprechi di materiale o comunque non ci siano grossi sprechi di materiale proprio perché una progettazione attenta, iniziale, che devi dare delle informazioni esatte alla macchina che costruisce per cui non è un'architettura tradizionale che si mette il mattone che quindi poi devi romperlo perché la misura non è esatta per cui poi ancora devi passare il tubo nell'acqua della luce e quant'altro e monta smonta, capite? Lì devi averlo già definito dove devono passare le tubature, dove deve passare l'impianto o qualsiasi altra cosa. E quindi quando costruisci in maniera così precisa, ovviamente il materiale è calcolato esattamente per quello che, anzi lo puoi calcolare già a priori, quello che deve essere impiegato. E ovviamente poi una volta che hai fatto il progetto, teoricamente tu lasci il computer lì, la macchina che va da sola, puoi anche andare a dormire e il giorno dopo ti ritrovi la casa, quindi la velocità di esecuzione. In realtà non funziona così facilmente perché comunque deve esserci un'assistenza sempre che possa risolvere qualsiasi problema o comunque rifornire sempre di materiale la macchina, però estremizzando il concetto potrebbe anche essere un'idea del genere che la macchina ovviamente funziona da sola senza l'aiuto delle persone. E quindi se vogliamo anche da un punto di vista economico abbatti i prezzi in maniera incredibile perché non hai più bisogno di una grossa mano d'opera che ci mette molto tempo per lavorare, ma in quel caso ovviamente riduci il personale che diciamo poco qualificato, ma ne metteresti meno, ma molto più qualificato. Quindi ovviamente c'ha pregi e difetti come tutto. In ogni caso continuando i pregi potrebbe proprio anche essere quello di evitare gli errori e quindi anche avere un vantaggio ovviamente economico a prescindere dal personale quello che sia. Però come dicevo anche dei forti limiti perché la macchina deve essere posizionata in un certo maniera ovviamente precisa, funziona come dicevo aggiungendo del materiale quindi non puoi fare qualsiasi architettura che vuoi ma deve essere pensata secondo i limiti che ha la macchina. Dicevo anche il materiale che ancora non è così chiaro perché ancora vengono utilizzati vari tipi di materiale proprio perché deve essere molto fluido ma anche asciugarsi velocemente perché altrimenti come dire colerebbe via, deve avere la giusta consistenza e cosa che anche per esempio il cemento tradizionale non potrebbe essere impiegato proprio perché i tempi di asciugatura oppure magari che si secchi o si otturri dove appunto c'è la fuoriuscita del materiale che sono tutti aspetti ancora da vedere. È un altro enorme limite anche che per diciamo volendo costruire una edilizia più tradizionale quindi dei muri rettilinei come un muro tracciato su una linea retta si può fare ovviamente ma poi per fare una superficie orizzontali quindi una copertura o semplicemente un solaio lì ovviamente il limite della stampa 3D è enorme perché non si può realizzare ancora senza una superficie su cui si appoggi. Ovviamente si può avviare il problema creando delle come si fa anche adesso col cemento, delle piattaforme, dei casseri dove poi si possono togliere a lavoro concluso però in generale ancora gli edifici si pensano magari si fa il muro, la stampante 3D ti fa il muro però poi si applica sopra la trave tradizionale, una copertura tradizionale oppure come aveva fatto Cucinella ma ovviamente non puoi fare più piani perché se la chiudi come una piccola cupola ovviamente non puoi alzarti per più piani insomma ci sono dei limiti ancora importanti sicuramente è una tecnologia interessantissima perché come dei piccoli elementi di design riescono a fare delle forme incredibili secondo me si potrebbe anche pensare che si possa applicarle a una grossa scala magari facendo dei pezzi però ecco la capacità, la bellezza di questa stampa è che ti dà la possibilità la capacità di creare forme veramente infinite e uscendo fuori da quelle forme di un'architettura se vogliamo più tradizionale potrebbe essere anche molto interessante se ancora ci sono dei forti limiti comunque creare dei pezzi che ti dà ovviamente la possibilità di creare dei pezzi speciali che poi possono essere applicati a un'architettura più tradizionale quindi comunque mischiare le tecnologie con tecniche costruttive con quelle che conosciamo ma potendo applicare appunto la capacità della stampa 3D quella proprio di creare delle forme che altrimenti non si potrebbero fare e quindi sfruttare questa capacità magari solo per singoli pezzi, solo per alcuni elementi che ci interessano alcuni ornamenti, non lo so, solo la fantasia è il limite più grande e ovviamente le tecnologie che ancora sono probabilmente da raffinare e sviluppare al meglio Grazie a tutti!